Il penzolante, il docino, che va messo a suo posto, perché di notte chiudiamo l'autoclave, perché sennò il rischio è troppo alto, che uno inadvertitamente ci prende contro un momento e quindi conviene chiudere l'autoclave di notte. A parte che forse è chiusa. No, ecco, è chiusa. Ne abbiamo perso acqua perché è chiusa l'autoclave. Ne ha perso solo un pochino. Perché abbiamo staccato dalla banchina senza fare la modifica. Forte un'attacco. Mamma mia, meno male. Vado a sistemarla. Ma poi ci troviamo un caffè insieme. Ma poi ci troviamo un caffè insieme. Grazie.